Bella a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video, questo è il video, il secondo video della cassetta segreta delle sfide a tempo straordinario che ci permettono di bloccare lo stile della skin scintilla suprema in versione discoteca. Adesso noi stiamo andando a Boschetto Bisunto per prendere la seconda cassetta del visitatore, il primo video a Palmaquati che già l'abbiamo fatto lo trovate sul canale e mi raccomando raga iscrivetevi al canale e lasciate un bel like, noi siamo in live quindi raga se volete venire fanno un salto a salutare la cassetta è molto semplice, raga è molto semplice la cassetta si trova qua aprendo vediamo su qualche tavolo. Si trova su un tavolo che è quel tavolo, dai no 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 no, dai me la fate prendere la cassetta, fatemi prendere la cassetta, dov'è la cassetta? sta su un tavolo, sta su un tavolo, so che sta su un tavolo, eccola, eccola, dai veloce, ok me l'hanno fatta prendere. L'abbiamo sentita, vabbè, si domani mi sono rimesso quella di prima, vabbè raga spero che questo vi è piaciuto ragazzi, andare mie a seguire su Vista che mi sembra era psiont, e vabbè, iscrivetevi al canale, siamo in live, venite, ciao! Ciao!